Anche questa quaresima prende avvio con il rito delle stazioni squaresimali, un'antica tradizione che risale ufficialmente al V secolo, che la Chiesa offre ai fedeli per fermarsi e sostare davanti al Signore in atteggiamento di lode, pronti a testimoniare ed annunciare Gesù Cristo morto e risorto ed il suo Vangelo. Si è dato così il via alla Pia Pratica lunedì 19 febbraio scorso alle ore 19 presso la Basilica Concattedrale di Troia, la zona pastorale che racchiude tutte le parrocchie di Troia insieme con quelle di Orsara e Giardinetto, ha rivissuto la liturgia della parola propria del Mercoledì delle Ceneri. Commentando il Vangelo di Matteo, il Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano ha ricordato che la quaresima è un cammino verso la verità di Dio in cui Gesù propone se stesso come verità che si offre, quale è la legge della vita per ciascun cristiano. I tre mezzi che la Chiesa offre sono sempre gli stessi, elemosina, preghiera e digiuno. Elemosina precisa il Vescovo per arginare l'autoinganno, la preghiera per rispondere al bisogno di Dio, il digiuno come opposizione alla malinconia provocata dall'alto compiacimento di se stessi. Non vi sembra arrivato il momento, ed è questo, di prendere sul serio la vostra vita? È l'interrogativo finale del Vescovo. A chiudere la celebrazione della Stazio, i piedi di Gesù sacramentato, l'adorazione eucaristica e la benedizione finale. Prossimo appuntamento per lunedì 26 febbraio alle ore 18 a Lucera.